Buon poveriggio! Benvenuti! Allora, 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 cosa ci troviamo a fare oggi? Allora, siccome che io tra un pochino devo uscire, allora, nella mia prima campagna avevo preso un fondotinta voi direte, e che fondotinta è? Un fondotinta in stick, vi faccio vedere com'è, questo l'avevo preso, era il mio primo prodotto che ho preso a 2 euro quando mi sono iscritta a Oriflame e sono diventata una bread partner, questo è il mio primo prodotto che potevo prendere, che ho scelto io siccome non l'ho mai usato, non l'ho mai preso, quindi è stata una novità per me. Allora, cosa ho fatto? Potevo prendere un prodotto, come adesso, comunque per chi si iscrive può prendere nella prima campagna un prodotto del valore non superiore a 10 euro e pagarlo solamente 2 euro e io cosa ho fatto? Ho preso questo, che è anche nella campagna questa di adesso, la 13, vi faccio vedere, e costa 9,49 euro, eccoli qua, è questo, questo qua io infatti ho preso il beige nude, che è il 43,371, questo qua, non so se si vede bene comunque questo era una novità perché io non ho mai provato i fondotinta in stick e quindi ho voluto provare e era una mia curiosità, quindi oggi che faccio? Voglio fare un video con voi e provare questo fondotinta allora, io intanto ho messo il prime, tolgo gli occhiali, andiamo a mettere anche come prodottino per le occhiaie questo bel prodotto che hanno, diciamo, rinnovato, della Giordani Gold, che è quello con il cushion questo qua e ora, se guardo di qua, ragazzi, non ci fate caso perché tengo lo specchio, eh, quindi lo metto qui perché se no allora, e andiamo a mettere, così vi faccio vedere anche perché questo fondotinta, oltre a cioè no, scusate, questo correttore oltre a coprire l'occhiaia va anche a distenderla perché ha, diciamo, il come si chiama? ha un prodotto che comunque va a allenire va a distendere le rughe del viso quindi delle occhiaie quindi lo proviamo subito insieme vi faccio vedere così e anche in questa campagna questo sta a 6 euro e e 49 anche il il correttore cushion ci devo prendere la mano perché ragazzi io non ho mai usato questi correttori così questi con il cuscinetto quindi devo devo andarmi ad abituare un pochino comunque se premete vi faccio vedere se si vede se premete vedete esce il prodotto e da qui poi ve lo andate a mettere io ho preso il ci sono due colori c'è il fire e il medium e io ho preso il medium così da perché comunque si so bianca cadaverica però insomma un pochino un pochino insomma allora adesso questo lo aiuto e vado con la spugnetta forse ci devo prendere ancora la mano ragazzi quindi abbiate pazienza però ragazzi devo dire che copre benissimo l'occhiaia quindi mi piace tanto quindi ok poi piano piano che prenderò la mano ma oggi quindi ricordatevi di questo che lo trovate in offerta anche in questa campagna ok però questo mio video è per questo fondotinta lo apriamo si presenta così quindi è in crema vi faccio vedere vediamo se insomma va bene sul mio viso comunque l'avevo provato e infatti stendendolo sembra che copre andiamo ragazzi a provare questo fondotinta io è la prima volta che lo uso quindi non so neanche come fare però comunque dai ci proviamo ok io lo metto adesso e poi con la spugnetta lo andiamo a anche un po' profumo lo andiamo a a stendere ok vedete io l'ho messo ora un po' nel viso è molto cremoso devo dire molto molto bello prendo la mia spugnetta che ora in questa campagna c'è anche la spugnetta quella al carbone al carbone attivo e comprerò quella perché sta 5,50 euro e ho sentito dire che è molto buona come spugnetta quindi sarà e niente la prenderò quindi sarà il mio acquisto e domenica ragazzi faccio l'ordine quindi il mio primo ordine di questa campagna 13 perché ancora non è il catalogo chiedetemelo se volete avere informazioni sul sul diciamo su oriflam per qualsiasi cosa voi contattatemi senza problemi senza nessun impegno quindi se mi chiedete il catalogo non è che dopo siete obbligati a comprare ok che questo sia chiaro io non non faccio obbligi a nessuno nel senso ognuno può guardare sceglie cioè nel senso può guardare acquistare oppure tranquillamente dire no l'ho visto ma non vi interessa ragazzi è bellissimo mi piace tanto 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 vi giuro ho mai presi non so se si vede comunque la mia pelle più un po' più diciamo uniforme come si dice bella mi piace ragazzi perché poi si stende benissimo quindi non è pesante e bello mi piace quindi ho fatto un ottimo acquisto era tempo che dovevo provarlo questo fondotinta ragazzi devo dire e quindi alla fine ecco qua ora l'ho provato aspettate me lo tengo che ne dite forse c'è la luce un po' strana però devo dire che mi piace tanto che poi che poi avete visto comunque non è che ho usato chissà quanto fondotinta quindi bello ragazzi mi piace ok ora la blender poi la lavo quindi ora mi metto gli occhiali no ragazzi è bello 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 ha una copertura non altissima però mi piace tanto il colore è azzeccato almeno dalla luce del bagno sembra sembra che vada bene scusate ok sembra che sia perfetto quindi che dire bello 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 mi piace tantissimo ora finirò con il mascara però io volevo farvi vedere questo e quindi ragazzi questo è un corretto scusate è un fondotinta della the one quindi un fondotinta a stick come già vi ho detto guardate quanto è bello poi è cremoso quindi non è quella crema compatta quindi si stende benissimo e quindi niente ragazzi volevo farvi vedere questo video così per mostrarvi questo fondotinta e stick vi ricordo che eccola la blender quella che dicevo la spugnetta al carbone e la trovate solo 5,50 euro quindi questo è il fondotinta questi sono i colori io ho preso il beige nude perché comunque per il mio colore va bene questa campagna è iniziata mercoledì il primo ordine lo farò domenica questa è la campagna quindi se non avete il catalogo chiedetemelo tranquillamente non c'è nessun obbligo poi di acquistare e niente ragazzi questo volevo mostrarvi solamente questo quindi vi lascio con questo fondotinta ok ragazzi un bacio domani sera forse voglio andare in live e farvi la maschera cioè farmi la maschera quella nera della pur skin che mi è arrivata così la proviamo insieme intanto ci sfogliamo un po' al catalogo cosa dite ok adesso un bacio e buona serata e ciao ciao ciao